Ciao cari futuri progettisti, anche oggi un vostro compagno mi ha mandato dei compiti di fisica, in particolare è una verifica che riguarda la teoria sui vincoli. Diamo una ripassata quindi anche alla teoria di fisica sui vincoli. Prima di cominciare però ti invito a condividere questa lezione con i tuoi compagni di classe e ti ricordo di inviarmi anche i tuoi compiti che non riesci a risolvere per quanto riguarda le materie tecniche di matematica, fisica, elettronica e così via. Per i compiti di oggi andiamo a vedere come si risponde a una serie di quesiti relativi a una verifica di fisica. Quesito numero 1. Si dice vincolo qualsiasi cosa che impedisce A. Ogni movimento ad un corpo B. Determinati movimenti ad un corpo C. Solo la traslazione di un corpo o la rotazione di un corpo Probabilmente la risposta a questo quesito è la B perché un vincolo impedisce ad un corpo determinati movimenti per esempio la traslazione sull'asse X la traslazione sull'asse Y la traslazione sull'asse Z o la rotazione E' vero anche che esistono dei vincoli che impediscono solo la traslazione o solo la rotazione Esistono anche vincoli che impediscono ogni movimento ad un corpo perché se il corpo è completamente vincolato a questo punto viene impedito qualsiasi movimento In ogni caso quella che assomiglia di più alla risposta corretta è la B Quesito 2. In quali delle seguenti situazioni non si ha una reazione vincolare? Un chiodo che regge un quadro? Ovviamente sì perché il quadro si poggia sul chiodo e viene a formarsi una reazione vincolare Se non ci fosse il chiodo il quadro cascherebbe Una mensola che legge un libro? Stessa cosa Una pietra che cade nel vuoto? Probabilmente questa è la risposta corretta Il mozzo di una ruota in movimento di una bicicletta Chiaramente la ruota gira e rimane vincolata appunto alla bicicletta proprio perché il mozzo è avvitato sulla forcella Quesito 3. Un corpo è rigido se Se sta fermo? Direi proprio di no Se la distanza reciproca tra due suoi punti non varia? Esattamente Un corpo è rigido se non ruota? Falso Un corpo è rigido se è puntiforme? Se è puntiforme è un punto e quindi non è un corpo Quindi assolutamente la risposta è la B Cioè preso un corpo, questo è un corpo rigido perché le distanze tra i vari punti non cambiano Chiaramente se io comincio a fare questa cosa Se comincio a muovere le varie facce del cubo Questo non è più un corpo rigido Quindi un corpo rigido si intende quando Per esempio questo è un corpo rigido Un corpo rigido è un corpo i cui punti Presi due punti non cambiano mai la distanza tra di loro Quesito 4. Indica quali caratteristiche tra le seguenti Sono uguali con la lettera U e quali sono differenti con la lettera D In una coppia di forze Allora facciamo un attimo Un ripasso sulle coppie di forze Le coppie di forze sono due forze Perpendicolari a una retta R Ovvero che hanno le rette di applicazione parallele tra di loro Di uguale intensità uguale direzione ma verso opposto Andiamo a vedere La direzione è uguale L'intensità è uguale Il verso è opposto Quindi uguale uguale è diverso Punto di applicazione diverso La retta di applicazione è diversa La retta di applicazione vedete che in questo caso è R1 In questo caso è R2 Le due rette sono parallele e distanti tra loro Esattamente questa distanza si chiama braccio B Solitamente si indica con la lettera B Quesito 5 Con quale unità di misura può essere misurato il momento? Chiaramente il momento è forza per il braccio La forza è espressa in Newton Il braccio è espresso in metri Quindi non è secondi È sicuramente Newton metri Non è chilogrammi Non è Newton su metro Quesito 6 Un corpo rigido si trova in equilibrio meccanico se Ricordiamo che cos'è un equilibrio meccanico? Un equilibrio tale per cui se anche un corpo rigido è soggetto a delle forze Questo corpo rimane immobile Immobile significa sia che non deve traslare in nessuna direzione Sia che non deve ruotare su se stesso Per non traslare la risultante R delle forze F1, F2, F3 Quindi R uguale F1 più F2 più F3 Presi come vettori Quindi sono somme vettoriali La risultante deve essere uguale a 0 Per non avere traslazione Ma per non avere rotazione Non ci devono essere neanche coppie di forze Quindi il punto di applicazione deve essere lo stesso Vi ricordo in questo video c'è anche la spiegazione dei vettori e delle somme vettoriali Quindi un corpo rigido si trova in equilibrio meccanico se Se non è soggetto a nessuna forza Beh sicuramente Sicuramente se non è soggetto a nessuna forza Mi verrebbe da dire che è in equilibrio Se non trasla Certo È in equilibrio meccanico se non trasla Se non ruota Certo Se non ruota La somma vettoriale sia dei momenti che delle forze è uguale a 0 Questa è la risposta più completa Ovvero quella corretta Quesito 7 Che cosa è una macchina semplice? Una macchina semplice questa potrebbe essere una domanda a trabocchetto È un dispositivo basato su un meccanismo molto semplice Infatti questa è una domanda trabocchetto Un dispositivo facile da usare? Assolutamente no Un dispositivo che permette di sfruttare al meglio le forze muscolari Un dispositivo capace di annullare le forze e i momenti Rappresentano le tecnologie più antiche per applicare una forza maggiore Della sola forza muscolare Attraverso il guadagno meccanico Secondo Wikipedia La C è la risposta esatta Ovvero che permette di sfruttare al meglio le forze muscolari Anche attraverso l'effetto della leva Quesito 8 Albina con una freccia ad ogni termine la sua definizione La leva svantaggiosa per contrastare la resistenza è necessaria una forza motrice maggiore della forza resistente Esatto Che cos'è la leva? Abbiamo detto che qui abbiamo un vincolo che ci consente di far muovere questa asta Se noi applichiamo una forza F qui E' una forza F qua Quindi chiamiamola F1 e F2 La leva svantaggiosa sarà questa Cioè ad una grande forza F1 corrisponde una piccola forza F2 Questa è la leva svantaggiosa Per contrastare la resistenza è necessaria una forza motrice maggiore della forza resistente Se questa la chiamiamo forza motrice e questa è la forza resistente In questo caso abbiamo una leva svantaggiosa Invece la leva vantaggiosa per contrastare la resistenza è necessaria una forza motrice minore della forza resistente Ad una minor forza sulla forza Quando parliamo di leva svantaggiosa Una grande forza diventa sì una piccola forza Ma un piccolo movimento diventa un grande movimento Le due cose si compensano Quando la leva è vantaggiosa Ad un grande movimento corrisponde un piccolo movimento sulla forza resistente E viceversa Quesito 9 Il momento di una forza raddoppia sé Allora intanto ricordiamo che cos'è il momento Se io ho una forza E ho una distanza dal fulcro Che possiamo chiamare braccio La forza per il braccio Inteso come prodotto vettoriale Mi dà il momento Il momento M Che a sua volta è un altro vettore E ci ricordiamo che il senso di rotazione della forza Se lo seguiamo con le nostre dita Fa sì che il pollice indica Indica la direzione del momento Cioè vediamo la coda della freccia in questo senso Essendo una moltiplicazione Quindi un prodotto vettoriale Il momento di una forza raddoppia sé Della forza per il braccio Dimezzando il braccio O dimezzando la forza Si riduce della metà anche il momento Quindi un po' per esclusione Un po' perché è la risposta giusta Quadruplicando il braccio E dimezzando la forza 4 per un mezzo Uguale a 2 Quindi quadruplicando il braccio E dimezzando la forza Si raddoppierà il momento Domanda numero 10 La forza equilibrante Per mantenere in equilibrio Su un piano inclinato Di altezza H e lunghezza L Vediamo che cos'è un piano inclinato Questa è l'altezza La lunghezza L Che va da qui a qui La forza equilibrante Per mantenere in equilibrio Su un piano inclinato Appunto Questo è un corpo Per mantenerlo in equilibrio Su questo piano inclinato Assimilabile a un punto materiale Con peso Quindi il peso Che cos'è? E' un vettore Forza peso Rivolto verso il centro della terra Verso il basso Che si scompone in due componenti Si scompone in una componente Che chiameremo N Che chiameremo N Normale al piano d'appoggio E una componente T Parallela al piano d'appoggio Allora La forza equilibrante Quindi la forza equilibrante Qual è? E' la forza Che contrasta La forza T La chiameremo F F è uguale a meno T Proviamo a ricorrere a questa risposta Utilizzando l'intuito E non utilizzando le formule Poi andiamo a vedere anche analiticamente come si comporta Allora Per H Che tende a zero Il piano tende a diventare orizzontale Quindi abbiamo che la forza tangente Anch'essa tenderà a zero Perché con un piano orizzontale Non c'è forza tangente Per L che tende all'infinito Nuovamente abbiamo un piano che tende a diventare orizzontale Quindi di nuovo La forza tangente tenderà a zero Per il peso che tende a zero Anche la forza tangente tenderà a zero Ok? Quindi Cosa significa? Che ci viene da intuire Che c'è una proporzionalità diretta Tra la forza tangente E quindi la forza equilibrante Con altezza e peso del corpo Inversamente proporzionale Con la lunghezza Per cui Inversamente proporzionale ad L Ed è questo Direttamente proporzionale a P e H Quindi questa Risposta è plausibile Poi andiamo a vedere anche le formule Inversamente proporzionale ad H E direttamente proporzionale a P ed L No Direttamente proporzionale ad L E P Inversamente proporzionale ad H Direttamente proporzionale ad L E P Inversamente proporzionale ad H Questo assolutamente Non è vero a nessuna delle tre Quindi Probabilmente è la A A questo punto Siccome il rapporto che c'è Tra la forza peso P E la forza tangente E pari a T Uguale Forza peso Per Il seno di alfa Dove alfa è questo angolo qua? Sapendo che Il seno di alfa È uguale ad H Fratto L Otteniamo che Lo scriverò con un altro colore Lo scrivo qua T È uguale a P Per H Fratto L Quindi Otteniamo nuovamente Che La forza Equilibrante Ovvero F Che è uguale a meno T È inversamente proporzionale ad L Infatti L è al denominatore E direttamente proporzionale a P e H Che sono al numeratore Andiamo avanti E quesito 11 Vero o falso? Un corpo è in equilibrio meccanico Solamente quando non ci sono forze che lo sollecitano Falso Non perché sia falso in assoluto Ma perché non è l'unico modo per far sì che un corpo sia in equilibrio meccanico Un corpo in equilibrio meccanico sì Quando non ci sono forze che lo sollecitano Ma anche quando la risultante delle forze è uguale a zero E la risultante dei momenti adesso applicati è uguale a zero La reazione vincolare è maggiore della forza esercitata sul vincolo Anche questa è falsa Perché per il terzo principio della dinamica ad ogni forza equivale una forza uguale e contraria Detto anche principio di azione e reazione Se due forze agiscono su un corpo E una delle due forze ha intensità maggiore dell'altra Il corpo si trova in equilibrio Falso Perché la risultante non può essere uguale a zero Se una delle due forze ha maggiore intensità Il momento di una coppia di forze è una grandezza vettoriale Assolutamente vero Perché il momento di una coppia di forze si calcola attraverso il prodotto vettoriale Il braccio di una coppia dipende dalla distanza tra i punti di applicazione delle forze della coppia E' vero ma non solo Quindi il braccio di una coppia di forze Se andiamo a vedere questo braccio Dipende sì dai punti di applicazione Però attenzione perché se il punto di applicazione di questa forza è questo Avremo un certo momento Ma se il punto di applicazione giace comunque sulla retta R2 Anche in un altro punto avremo lo stesso identico momento Quindi un braccio di una coppia dipende dalla distanza tra i punti di applicazione delle forze Mi viene da dire falso Perché non è la distanza del punto di applicazione Ma è la distanza delle rette di applicazione Quando osserviamo un orologio a lancette Questa è bella la domanda L'avevo già vista prima E questa domanda è proprio bella Adesso sentite la risposta Quando osserviamo un orologio a lancette I momenti delle coppie di forze che generano la rotazione delle lancette Sono diretti verso di noi? Vero o falso? Allora Questa è Questo è un orologio Questa è la lancetta Questa è la lancetta E questo è il senso di rotazione Perché per girare in senso orario Vedete che io la spingo da dietro in questo modo Quindi C'è una forza resistente Che è una reazione vincolare al centro E c'è un'altra forza all'esterno Che fa muovere la lancetta Se io metto le dita della mia mano Nel senso di rotazione Quindi nel senso della forza motrice Il mio pollice punta verso il basso Quindi in teoria Qui abbiamo la coda della freccia E il momento punta verso il basso Quindi non viene verso di noi Falso In realtà Dobbiamo stare attenti a questo tipo di domande Perché se la lancetta parte Per esempio la lancetta di secondi Si muove a scatti Quindi parte e poi si ferma Nel momento in cui la spingiamo per partire Il momento di copie di forze È diretto in quella direzione Ma quando lo andiamo a frenare Perché deve fermarsi la lancetta a un certo punto La copie di forze spingerà Esattamente dalla parte opposta La posizione del baricentro di un corpo Dipende solamente dalla forma del corpo Assolutamente Se io ho un corpo qualunque Il baricentro B è il punto esatto di applicazione Della risultante di tutte le forze e peso di questo corpo E chiaramente Il punto di applicazione È un punto ben determinato Dalla geometria del corpo stesso Quindi dalla forma Quindi la posizione del baricentro Dipende solamente dalla forma del corpo Vero? Se la proiezione sul terreno del baricentro Cade all'interno della superficie di appoggio Un corpo tende a restare in equilibrio Vero Questo è il principio secondo cui La gru per esempio Benché abbia un braccio E magari un carico sporgente E la base d'appoggio molto piccola Rispetto all'estensione delle sue braccia Se la risultante delle forze peso E quindi il baricentro cade all'interno della superficie di appoggio La gru resta in piedi Altrimenti se la risultante casca fuori Si viene a creare un momento di forza di coppia Che la fa ribaltare Per cui La proiezione sul terreno del baricentro Accade all'interno della superficie di appoggio Un corpo tende a restare in equilibrio Vero In un piano inclinato La forza equilibrante È uguale e opposta Alla componente del peso perpendicolare al piano Vediamo cosa abbiamo fatto prima La forza equilibrante era parallela al piano d'appoggio Quindi Devo dire Devo dire Falso Devo dire falso Perché in un piano inclinato La forza equilibrante È uguale e opposta al componente Peso Parallela al piano I corpi che non possono ruotare Non possono neanche traslare Assolutamente falso Altrimenti un treno Altrimenti un treno non potrebbe andare sulle rotaie Perché il treno trasla Le sue ruote ruotano Ma il treno trasla Quindi il fulcro di una leva È il punto intorno al quale L'asta rigida ruota Abbiamo visto prima Che una leva È fatta in questo modo Questo punto qua Dove Intorno al quale La leva ruota Si chiama fulcro E infatti Qua dice che il fulcro di una leva È il punto intorno al quale L'asta rigida ruota Ed è vero Una leva In cui il fulcro È compreso Tra il punto In cui viene applicata La forza motrice E quello in cui Si esercita la forza resistente È sempre vantaggiosa Abbiamo Esattamente questo caso Cioè il punto Se sta qua in mezzo Assolutamente no È falso Perché se Il punto di applicazione Sta nella prima metà La leva è svantaggiosa Se sta nella seconda metà La leva diventa Vantaggiosa Quindi È vero solo Per metà Della lunghezza Falso Perché se non è completamente vera Diciamo che è falsa È falso Per il sempre Ok Con questo è tutto Condividete questo compito Con i vostri compagni di classe E ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao